Al giorno d'oggi lo sport non può essere considerato solo il mezzo per curare il proprio aspetto fisico. La cura del proprio corpo è sì importante ma non può essere fine a se stessa, al contrario deve rappresentare uno strumento per trovare una sorta di equilibrio psicofisico, guadagnare fiducia in se stessi e addirittura curare in modo naturale molti dei disturbi tipici della vita moderna. Ne parliamo in questa puntata di Ciac Salute con il personal trainer, preparatore atletico Francesco Colonna che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Benvenuto. Grazie a voi per avermi invitato. Entriamo immediatamente nel fuoco di questa puntata con la prima domanda, il significato della parola fitness. La parola fitness è una parola usata in modo ricorrente nel linguaggio moderno, anche se spesso si usa in modo abbastanza improprio. Il significato letterale della parola fitness chiaramente di derivazione anglosassone è la cura della forma, in questo caso chiaramente nella cura della forma fisica. E' ovvio che però oggi noi la utilizziamo nel linguaggio più comune chiaramente ad indicare tutte quelle attività, mesi compresa, alimentazione compresa, che chiaramente sono finalizzate al mantenimento e all'ottenimento di una forma fisica che possa definirsi accettabile o ottimale. Continuiamo proprio sul significato delle parole, quindi passiamo dalla definizione di fitness a quella di benessere. Qual è la differenza? Ovviamente come in molti settori adoriamo usare le parole di origine anglosassone, anche la parola benessere è stata un po' soppiantata nel nostro linguaggio comune dalla parola wellness. La parola wellness appunto che significa cura del benessere. Spesso le due parole si usano in associazione e spesso addirittura si cade nell'errore di usarle come sinonimi. Questo diciamo è un errore perché se è vero che perseguire una vita sana, appunto perseguire il benessere e il wellness, può portare ovviamente come aspetto conseguenziale anche ad avere una forma fisica ottimale e non è vero del tutto il contrario, nel senso che perseguire la forma fisica, viceversa, a volte per delle persone particolarmente diciamo che hanno la mania di guardarsi troppo allo specchio, magari di usare la bilancia in modo ossessivo, la ricerca del fitness, cioè della forma fisica, può portare anche a delle conseguenze abbastanza gravi per la propria salute. L'esempio pratico potrebbe essere l'anoressia, in effetti che è proprio la ricerca ossessiva della magrezza e può comportare anche dei risultati abbastanza gravi per la salute e per il benessere. In questa puntata di Ciac Salute scopriremo innanzitutto perché è importante fare attività fisica, ma prima di capire tutto questo cerchiamo di chiarire ai nostri telespettatori che cosa si rischia se non si pratica attività fisica, anche perché partiamo dal presupposto che il fitness è un'ottima strada per prevenire molteplici patologie. Ma proprio in merito a quello che ci siamo detto poc'anzi, più che usare la parola fitness userei innanzitutto la parola attività fisica, altrimenti si può cadere nell'errore di associare l'attività fisica solo a un discorso prettamente estetico. Quando viceversa l'attività fisica è anche fondamentale per far sì che la maggior parte delle nostre funzioni fisiologiche che restino a livelli ottimali come quello che può essere nei livelli ormonali, come l'aspetto della tiroide, come può essere gli aspetti cardiovascolari. Quindi chiamare e definire attività fisica solo con la parola fitness può trarre in inganno e pensare, ripeto, solo a un discorso estetico. Viceversa l'attività fisica ormai è un aspetto consolidato dalla comunità medico-scientifica che l'attività fisica è fondamentale per preservarsi da molte patologie che sono tipiche appunto dei giorni nostri. Ok, dunque hai vantaggi per la salute con un buon programma di allenamento, ma quanto è importante proporre e descrivere obiettivi reali a chi fa attività fisica? Qui chiaramente entra in gioco il ruolo fondamentale del personal trainer o trainer. è ovvio che sicuramente ogni soggetto ha delle esigenze diverse, ha un tipo costituzionale diverso e ragion per cui sicuramente il protocollo di allenamento che si andrà a preparare è come se fosse un abito che il sarto dovrà cucire addosso alla persona. È ovvio che tutto questo non può prescindere da un'anamnesi iniziale da parte di un medico che dovrà innanzitutto stabilire lo stato di salute generale da chi si approccia a fare attività fisica e chiaramente eventualmente mettere al corrente il trainer se ci sono anche delle controindicazioni o delle patologie che magari possono inficiare l'attività fisica. Ecco Francesco, sottolineiamo proprio questo aspetto anche l'importanza della condizione di salute proprio di chi si avvicina a questo tipo di attività perché tante volte questo passaggio viene sottovalutato e forse ci si avvicina anche in maniera diciamo non responsabile quindi anche la responsabilità e l'autorevolezza che ha il personal trainer di scoprire se siamo di fronte ad una persona che può o non può fare attività fisica. Quindi quanto è importante anche questo scrupoloso aspetto che tante volte viene invece superato con la superficialità. Assolutamente, diciamo che è un errore abbastanza ricorrente nelle persone che dopo periodi di inattività decidono di punto in bianco di intraprendere un percorso di attività fisica. Il più delle volte, ripeto, l'inizio dell'attività fisica è collegato alla necessità di voler perdere peso diciamo che questo è un aspetto molto ricorrente. è chiaro che spesso si approccia proprio ad iniziare qualsiasi tipo di attività fisica senza la dovuta preparazione e è chiaro che l'inizio di qualsiasi tipo di attività fisica non può prescindere da un esame medico iniziale che deve escludere qualsiasi tipo di patologia che possa essere controindicata per l'attività fisica stessa. Quello che io amo dire spessissimo è che una cosa banalissima che tutti sappiamo fare come la corsa in alcuni casi, come in casi di sovrappeso, sovrappeso importanti soprattutto che spesso sono anche accompagnate da patologie cardiovascolari intraprendere subito e mettersi a correre improvvisamente dopo essere stati fermi per anni e anni può essere un'attività veramente pericolosa ragione per cui è ovvio che bisogna prima assicurarsi del proprio stato di salute per poi rivolgersi a un personal trainer e individuare qual è il percorso più adatto per se stessi. Un percorso come dicevamo prima personalizzato. Ecco ci siamo assicurati che la persona che vuole praticare attività sportiva, attività fisica è in sane condizioni però a volte poi lo step successivo è condizionato diciamocela tutta anche dal mercato e quindi esistono delle discipline anche moderne, ultramoderne che in un certo senso assicurano anche dei risultati che vanno oltre le possibilità e quindi possono anche nuocere a lungo andare a chi decide di avvicinarsi a questo tipo di disciplina. Quindi quanto è difficile riconoscere i limiti di una persona che si avvicina a questo tipo di discipline e soprattutto fargli capire che non fa per lui e quindi si deve dedicare ad altro, riconoscendo anche a volte il mercato così troppo petulante. Questa è una bella domanda ed è molto problematica da affrontare, nel senso che purtroppo chiaramente per motivi di business anche perché soprattutto il mercato del dimagrimento è un mercato che ha una grande domanda, ragion per cui laddove c'è domanda c'è anche offerta. È ovvio che poi sta all'etica professionale del personal trainer e cercare di individuare un percorso che sia realistico, che sia soprattutto in linea con quello che ci dicevamo prima con il wellness. È ovvio che una persona che viene da un forte sovrappeso non può pretendere di diventare una pin-up nel giro di qualche giorno, di qualche mese ed è un concetto abbastanza difficile per noi personal trainer far entrare spesso perché l'essere umano è un po' portato a trovare le scorciatoie. spesso si è anche più facilitati a pensare che una cosa si possa ottenere velocemente anziché poi accettare e seguire il personal trainer che ti dice che ci vuole tempo, costanza e sicuramente una gradualità nell'approccio al traguardo che si vuole ottenere. Appunto, tempo e costanza. Noi siamo per un'attività fisica fatta sempre, non in determinati periodi dell'anno. Quindi quali sono, proprio per fare degli esempi concreti a chi ci sta guardando, quali possono essere degli esercizi che fanno bene a tutti? Allora, assolutamente. Io amo dire sempre questo, che la palestra o l'attività fisica, come la vogliamo interpretare, non deve essere assolutamente, non ci si deve ricordare assolutamente solo nel mese di aprile o nel mese di maggio poi perché tra 30 giorni ci aspetta la spiaggia e quindi dobbiamo metterci la famosissima prova a bikini nella maniera più assoluta. L'attività fisica deve essere un atteggiamento vitalizio, nel senso che, come amo dire spessissimo io, allo stesso modo che prendiamo cura dei nostri capelli, nel caso delle donne, delle creme per la pelle, in questo caso bisogna avere la stessa attenzione per la propria forma fisica e non ricordarsi solo nel mese di aprile. È ovvio che, è chiaro che a questo punto il personal trainer deve sicuramente scegliere il protocollo di allenamento più indicato a cercare di arrivare ad un traguardo che sia in linea con il benessere e non provi dei problemi di salute perché il più delle volte, ripeto, la fretta è sempre una cattiva consigliera, la ragione per cui ricordarsi a maggio che abbiamo messo 10 chili è forse troppo tardi, forse bisognava pensarci prima di metterli e cercare di mantenere il proprio peso ideale, vita natural durante e non solo nel mese di giugno. Quindi ci sono effettivamente degli esercizi evergreen, nel senso che possono tutti fare e anche se ci sono esercizi che altri non possono fare, oppure tutto dipende, come dicevamo e come hai detto, dipende tutto dal percorso e quindi dal programma personalizzato che viene affidato? Assolutamente, cioè a questa domanda si potrebbe rispondere, esistono tutti gli esercizi sono buoni o nessun esercizio è buono? È ovvio che, ripeto, è tutto correlato all'individualità della persona e che possiamo dire, per esempio il dicesimo, il tapirulan può essere bene per tutti, sì, perfetto, ma a quale velocità? Con quale intensità? Il cardiopatico può fare il tapirulan a quale velocità? Ecco perché un esercizio può essere interpretato in diversi modi e sicuramente lo stesso esercizio va adeguato ad intensità diverse a seconda delle persone. Abbiamo detto che è importante fare attività fisica sempre, quindi non cercare di risolvere o comunque di affezionarsi a questo tipo di attività soltanto perché ci stiamo avvicinando all'estate e quindi parliamo anche di tempo. Tante volte per le persone il non fare attività fisica è giustificato da un alibi che è il tempo. Non ho tempo, non riesco a fare tutto, riesco a farlo per una volta e non le altre tre volte successive. Quindi dove trovare una motivazione, dove trovare il tempo e come trovare il tempo per andare in palestra? Questa domanda mi fa un po' sorridere perché è una domanda che... Ricorrente. ...alla quale devo rispondere, sì, sì, molto frequentemente, perché la giustificazione principale che spesso ci si dà è proprio quella, no, ma sai, non ho tempo. Perfetto. Allora io dico, una settimana, sette giorni per 24 fa 168. 168. Non trovare tre ore su 168 per prendersi cura del proprio corpo ritengo che sia non del tutto veritiero. Infatti tre ore su 168 è veramente ritagliarsi una piccola fetta del proprio tempo per dedicarsi alla cura del proprio corpo e del proprio benessere. Ricordiamo che questi due aspetti sono correlati. Ragion per cui darsi questo tipo di giustificazione, io cerco sempre di smontarli e dico, non è assolutamente così. Dico che, viceversa, che purtroppo oggi noi gestiamo la nostra vita per priorità. Allora bisogna calarsi proprio in questo tipo di idea, cioè bisogna iniziare a capire che se stessi il proprio benessere e la propria forma, e ripeto sono collegati, sono prioritari e quindi anziché metterli all'ultimo della propria scala gerarchica di necessità e di priorità, forse bisognerebbe riportarlo un attimino in qualche posto più vicino alla testa della classifica. Ecco, abbiamo detto anche l'alimentazione, quanto a volte, cioè quanto è importante anche abbinarla a una sana alimentazione e all'attività fisica e quindi ci chiediamo nello specifico che cosa mangiare prima e dopo l'allenamento, se ci sono dei consigli che puoi darci. Ma una sana alimentazione equilibrata innanzitutto è auspicabile a prescindere dall'attività fisica. È ovvio che se si intraprende un percorso di attività fisica, l'alimentazione va sicuramente adeguata al tipo di attività che andiamo a intraprendere. È ovvio che, diciamo, che già restare sulla varietà della propria alimentazione e cercare di essere il più vario possibile e di dosare tutti i macronutrienti in modo equilibrato è già una prima linea di guida abbastanza importante. Nel momento in cui è ovvio che non ci si riesce a gestire la propria alimentazione perché magari si è troppo tentati troppo spesso dai dolciumi o troppo spesso siamo tentati dalle fritture. È chiaro che a quel punto entra in gioco il ruolo fondamentale di un professionista che può essere il nutrizionista e il dietologo che sono gli unici professionisti che possono dare delle diete. È ovvio che noi, personal trainer, possiamo dare qualche consiglio che è quello che diciamo un po' più ricorrentemente si sente, cioè quello di limitare al minimo il consumo di dolci, di dolcetti e sicuramente limitare l'uso di fritto. È ovvio che poi, ripeto, se una persona non riesce ad avere proprio una linea guida dell'alimentazione, ovvio che entra di un nutrizionista sicuramente o di un dietologo chiaramente. Sarebbe utile prendere integratori salini per compensare le perdite di liquidi derivate dalla maggiore sudorazione soprattutto in estate? Assolutamente sì, diciamo al contrario di quello che si pensa, o meglio al contrario di quello che ho sentito che qualcuno dica, è importantissimo bere durante lo sforzo fisico e l'attività fisica anche se chiaramente bisogna bere a piccoli sorsi. È ovvio che nel caso di un'eccessiva sudorazione come può essere quella estiva, l'utilizzo di qualche integratore idrosalino è auspicabile proprio per portare e ripristinare l'equilibrio idrosalino del proprio organismo. Fa bene al corpo, alla mente e alla socialità. Cosa ne pensi? Eh sì, certo, questo è importantissimo perché, per tornare al discorso di prima, una volta che si riesce a trovare le motivazioni e il tempo. È ovvio che uno ha bisogno, l'utente ha bisogno di trovare anche un ambiente molto familiare, gradevole, piacevole per starci, oltre all'allenamento perché insomma fa parte anche quello del gioco. È un allenamento fatto in modo gradevole con persone simpatiche, persone gioiose, con un ambiente sano. È chiaro che invoglia anche a trovare il tempo per poi andare in palestra. Poi si trova il tempo, si va in palestra e ci si innamora troppo di se stessi. Può diventare la palestra una gabbia o come non far diventare una palestra una gabbia? Io credo che questo rischio sia più commisurato alla personalità di ogni singolo individuo. Io non credo che ci sia un rischio diretto di questo tipo correlato alla palestra. È ovvio che come in ogni ambito della propria vita ci vuole sempre equilibrio e anche nel caso della palestra o dell'attività fisica ci vuole equilibrio. Ragion per cui se si è già dotati di un equilibrio interiore difficilmente si può sforare insomma in degli atteggiamenti che possono essere ossessivi. Siamo quasi in chiusura. Quindi proprio perché siamo nella fase finale di Ciac Salute cerchiamo di dare dei consigli che i telespettatori possono portare con sé in tutti i momenti della giornata. Quali possono essere degli errori da evitare? L'errore da evitare è ripeto partire sparati per cercare di recuperare il tempo perduto senza una dovuta preparazione, senza chiaramente aver prima interpellato il proprio medico per avere un check up completo e senza chiaramente rivolgersi a persone qualificate. Poi pensare che l'attività fisica sia l'unico elemento per poter raggiungere il fitness o il wellness è ovviamente un'idea sbagliatissima perché è bene che lo sappiate la forma fisica si fa anche a tavola e non solo in palestra. Ecco appunto ci siamo avvicinati alla tavola dagli errori da evitare diciamo ai telespettatori quali sono invece i consigli da seguire? I consigli da seguire sono proprio quelli di iniziare a organizzare la propria scala gerarchica di priorità e iniziare ad innalzare il posto in classifica dell'attività fisica. Questa è una cosa che bisogna assolutamente fare e rendersi conto che i risultati in palestra si devono ottenere ma soprattutto poi si devono mantenere. Ragion per cui l'attività fisica deve proprio essere interpretata in questo modo come un'attività vitalizia e non una tantum. Anche perché come te tanti ospiti di Ciac Salute proprio nella fase finale della puntata nei consigli da dare ai telespettatori spesso dicono che ai fini di una prevenzione è importante accostare oltre al check up diciamo che può essere fatto costantemente anche uno stile di vita adeguato e una sana alimentazione. Nello stile di vita adeguato penso possa inserirsi anche l'attività fisica da praticare sempre. Eh certo sì sicuramente è ospicabile. Io ringrazio il personal trainer Francesco Colonna che ha raggiunto i nostri studi di via Cese 9 di San Salvatore Telesino. Lo ringrazio per la disponibilità e soprattutto per aver condiviso insieme ai nostri numerosi telespettatori le sue competenze e soprattutto la sua esperienza. Grazie ancora Francesco. Ringrazio voi tutti che invece costantemente ci seguite quindi ancora una volta non avete perso una puntata di Ciac Salute. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.